Oggi siamo qui a Castel di Sangro a inaugurare questa nuova struttura del Pretriage. Ho avuto anche la sorpresa di essere accolto dalla neve quindi siamo in un ambiente direi quasi quasi natalizio ma è un ambiente importante dal punto vista sanitario perché questa opera del Pretriage sarà utilissima non solo alla struttura ospedaliera ma all'intero comprensorio per mettere in sicurezza sia agli operatori sia ai pazienti che afferiscono la struttura. È arrivato con eccezionale puntualità perché siamo ovviamente in condizioni ancora di grande criticità del fenomeno pandemia. È un presidio importante, un presidio strategico per tutto il territorio Alto Sangro, Alto Polizia e Alto Chietino che è la rete di riferimento del bacino della sanità di questo presidio. Con questa struttura salveremo tante vite, ne sono convinto, siamo riusciti già a farlo prima ancora che riuscissimo a raggiungere il livello di oggi quindi il perfetto adeguamento e con questa struttura mi sento davvero di rassicurare un po' le comunità. Io non posso che ringraziare il direttore Testa che ha speso tempo, energie e lavoro insieme a tutta la struttura per raggiungere in tempi brevi questo obiettivo. Noi stiamo investendo su tutta quella che è appunto la rete Covid che riguarda un potenziamento non solo dei posti letto di subintensiva, delle rianimazioni ma anche soprattutto un potenziamento dei pronti soccorsi, quindi pronti soccorsi anche per quel che concerne il pretriage, per concerne quelle strutture che ruotano appunto al pronto soccorso che garantiscono una migliore funzionalità e attività in sicurezza appunto per gli operatori e per i pazienti.